Garibaldi fuori dal grande fratello? Geffines aggiorna la situazione. La scorsa martedì, Giuseppe Garibaldi si è sentito male per la seconda volta nella casa del grande fratello. Il concorrente ha avuto un improvviso malore mentre si trovava in bagno, manifestando sintomi di nausea e vomito. Stefano Miele e Grecia Colmenares, udendo rumori insoliti, hanno subito avvisato la produzione, che ha prontamente rimosso il concorrente calabrese dall'abitazione di Cinecittà per condurre un'indagine immediata. L'unico aggiornamento sulla situazione di Garibaldi proviene dal suo fratello Nicola, che ha rassicurato i fan tramite Instagram, volevo solo informarvi che si sta riprendendo bene e che non c'è motivo di preoccuparsi. L'importante è che stia bene. Le parole di Anita e Beatrice su Garibaldi Nel pomeriggio di ieri, Anita Olivieri e Beatrice Luzzi hanno discusso dell'assenza di Giuseppe. Garibaldi è assente da cinque giorni e molti spettatori ritengono che non farà più ritorno nella casa del grande fratello. Anita ha condiviso di aver chiesto alla produzione notizie sullo stato di salute dell'amico. È normale preoccuparsi e chiedere. Mi dispiace dover continuare a chiedere, ma mi hanno assicurato che sta bene. È importante concentrarsi su questo, che lui stia bene. Beatrice ha poi chiesto a Olivieri se pensava che i problemi di salute di Garibaldi fossero legati allo stress, sì, devi riposare per almeno 48 ore dopo esserti rimesso. Mercoledì c'era una diretta e lui non ha partecipato. Forse se fosse stata giovedì, avrebbero permesso il suo ritorno. L'importante è che si rimetta completamente. Tornare qui con il morale alto non deve essere fonte di stress. Ma credi che sia stato causato dallo stress? Anita ha spiegato che secondo lei Giuseppe non si è mai ripreso completamente dal primo malore. E se fosse lo stress la causa di tutto ciò, penso che non si sia mai completamente ripreso dalla prima volta. E sinceramente penso che debba. Sembra che Giuseppe farà ritorno domani. Ti auguriamo una pronta guarigione, Beppe, e torna più forte di prima. Modificatore emoji carnagione chiara ci manchi. Cancelletto Giuseppe, non solo a noi ma anche a chi ti nomina costantemente. Cancelletto Giuseppe, non solo a noi ma anche a chi ti nomina costantemente.